Il nostro percorso Il nostro percorso Il pesce per noi è la base del nostro lavoro Senza il pesce non potremmo assolutamente lavorare Infatti abbiamo delle barche che pescono solo ed esclusivamente per noi La prima scelta su tutto il mercato ittico Mi occupo personalmente della carta dei vini Cerco ogni anno, questo è un duro lavoro Selezionare le migliori etichette per poi proporre al cliente i prodotti migliori Abbinandoli e consigliandoli personalmente ai nostri piatti Come si fa? Mi viene da chiederlo ovviamente a colui che gestisce in primis la cucina Che è il signor Lucio A creare di anno in anno piatti sempre più coinvolgenti Se si vuole fare bene questo è un lavoro che richiede tantissima pazienza E poi sacrificio Poi noi abbiamo avuto sempre la fortuna Io ho avuto mio padre che ha imparato tantissimi segreti Per conoscere il pesce, come acquistarlo, come non acquistarlo E come lavorarlo Secondo lei che cos'è che determina il successo di Filippino? Molti sacrifici e la perseveranza di continuare a fare i sacrifici Altrimenti tutto svalisce Qual è il ricordo che le rimane più impresso di questa gastronomia? Anzi di questa enogastronomia È solo l'emozione che può parlare Quando un ristorante dà emozione in questa maniera, in questo modo Arriva al cuore col palato Ti mette veramente contento e felice di essere qui E poter apprezzare le cose che questo ristorante ha dato Filippino è il mare, il pesce, il vino buono, il vino di Salina Ha ritrovato la terra di Salina nel vino Qua è bellissimo È emozionante, come dice mio marito Filippino non è soltanto il gustare le nostre pietanze Ma l'assaporare la storia e l'amore del nostro lavoro Qui credo che si trova il tutto Gusto, palato, servizio, tutto Credo che siamo il top È una garanzia di qualità e di genuinità dei prodotti Visitate www.bernardigroup.it Dove troverete la storia del ristorante filippino E tutte le nostre strutture Una buona vacanza, anche una buona cucina e un buon riposo E soprattutto il buon ricordo di aver fatto una buona mangiata A ristorante filippino, queste sono le isole olie E non finisce qui perché questo è il gusto di viverle davvero a 360 gradi Grazie Grazie